Musica Si è svolto presso l'Aula Consiliare del Comune di Liberi la consegna dei premi per gli importanti risultati raggiunti agli atleti e alla prestigiosa società sportiva di nuoto la SD Time Limits di Liberi presenti oltre agli atleti la neocampionessa nazionale Noemi Cesarano dei 400 Stile Libero il sindaco Antonio Diana è parte dell'amministrazione comunale a termine della consegna dei premi la nostra Mariangela Marotta ha sentito i protagonisti Sindaco non è la prima volta che viene consegnato qui a Liberi un encomio solenne ma è sempre una grande soddisfazione quali sono un po' le emozioni? Buonasera a tutti, l'ultimo encomio è stato consegnato 17 anni fa, era il 1999 e manco a farlo apposta sono stati premiati sia Marianna Di Dario che Andrea Sabino che oggi è stato ripremiato in qualità di allenatore, abbiamo premiato altri tre atleti che si sono distinti nelle varie categorie di nuoto e il presidente di questa associazione Mattia Sabino, un'associazione che è di Liberi, nasce a Liberi anche se opera a Castel di Sasso Grande la soddisfazione per questo successo ma vogliamo parlare un attimino dei programmi futuri della società, insomma cosa si intravede all'orizzonte? Diciamo che i successi di quest'anno sono stati veramente veloci, inaspettati, più che altro ci abbiamo creduto, ci abbiamo sognato tanto questo titolo italiano è arrivato forse prima del previsto, questo a certificare il grande lavoro che c'è stato negli ultimi anni dietro le quinte di tutto lo staff infatti io sono il lead coach della società ma la società è molto ben organizzata, ha un preparatore atletico, il professor Domenico Papa ha un mental coach Mauro Pepe e un fisioterapista Umberto Marino, tutti quanti assieme insieme alla collaborazione della società fortunatamente agli impianti che riusciamo a gestire e quindi agli enormi spazi d'acqua che la società può offrire sia in vasca da 25 che in vasca da 50 con la piscina di Castel di Sasso, Calviri Sorta e la provinciale di Caserta siamo riusciti insieme grazie alla mia organizzazione e ai miei collaboratori a portare finalmente a Caserta dopo tanti anni con una casertana doc Noemi Cesarano il titolo nella nostra amata provincia insieme a questo titolo è arrivata un'atleta straniera che ha scelto di allenarsi con noi qui nelle nostre zone nella nostra piscina di Castel di Sasso e a vivere qui direttamente dall'Estonia la nostra atleta Gerda Pak la più grande, la veterana del gruppo e con lei siamo a due settimane dal campionato Estoni, campionato di assoluti Estoni lei è l'atleta più forte Estone e quindi stiamo preparando la finale della stagione e per non farci mancare nulla abbiamo strappato il pass per il Sette Colli che diciamo è una delle manifestazioni internazionali più importanti che si fa in Italia a Roma il prossimo 23, 24, 25 e 26 giugno quindi questi sono i prossimi appuntamenti per i quali stiamo lavorando veramente tanto Complimenti, mi rivolgo al Presidente quanto può essere grande l'orgoglio e la soddisfazione che può provare un Presidente quanto la propria società vince? Sicuramente è un orgoglio stratosferico anche perché non dobbiamo dimenticare che sono atleti che crescono e soprattutto porta bandiera dei colori non solo sociali ma di tutto il territorio infatti avere atleti che gareggiano in un ambito nazionale ma soprattutto internazionale e portare il vestillo del Comune di Liberi, della Time Limit, di tutta la provincia e di tutta la regione è un orgoglio appunto come mi ripeto immenso è un lavoro estenuante quello che si fa alle spalle per permettere a questi ragazzi di allenarsi e soprattutto un grosso aiuto ci viene dato soprattutto dai genitori con la loro massima disponibilità ma anche dalle strutture che ci permettono di poter effettuare un lavoro simile Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!